Amici di Ero Festival Italia, siamo qui con il grandissimo Gabriele Corsi. Allora Gabriele, com'è l'Eurovision anche quest'anno, cioè l'edizione di quest'anno? Io trovo che sia splendida, credo che anche tu stai vivendo un'atmosfera, soprattutto all'esterno, meravigliosa. Se non avete mai visto l'Eurovision, una volta vi dovete regalare questa esperienza, anche se non avete i biglietti. Basta camminare per le strade, basta vedere la gente che si abbraccia dopo tanti anni di separazioni, dopo tante situazioni in cui si alzano dei muri. L'Eurovision è esattamente il contrario, nasce per abbattere i muri e ci dimostra che la musica non può fermare la guerra, ma sicuramente nessuna guerra è stata combattuta in nome della musica. E secondo me questo è il messaggio più potente e bello. Cerchiamo di guardare l'Eurovision per quello che è, una grande manifestazione di fratellanza, unione. Divertente sì, perché tutti dicono, eh ma un circo. Ma il circo è divertente, questa è una festa, è la festa della musica, è la festa dei popoli e della fratellanza. Di tutte le performance che hai visto, qual è quella una che ti piace di più? Ce ne sono tante, ci sono i Lettri della Croazia, c'è cia cia cia, mi piace chiaramente. Ma il Belgio è molto bello, è molto interessante, insomma voglio dire, il Belgio è bellissimo. E tra l'altro vedi anche quello, è in pieno spirito l'Eurovision, c'è una canzone ballabilissima, divertente, con una messa in scena curiosa, colorata, ma che lancia un messaggio importantissimo. Questo è l'Eurovision, cioè il messaggio non è che deve essere due punti aperte virgolette, può essere mandato in tutti i modi. E quindi secondo me conta quello che c'è dentro la busta, non la busta. Com'è il lavorare con Mara? Vabbè ragazzi, è come appunto avere a che fare con i Beatles, perché lei li ha visti dal vivo, conosce la musica, conosce i meccanismi discografici, quindi è come dire, è interessantissimo e soprattutto è divertentissimo. Marco Mengoni? Allora Marco Mengoni ha già detto che lui è tranquillo così, l'abbiamo visto super rilassato, stava lì, mangiava prima, quindi era veramente sciallo direbbe mio figlio, quindi secondo me questo è l'atteggiamento giusto che deve avere, fa una canzone e una performance, cioè che è un altro campionato, adesso non vogliamo fare per forza i campanilisti, però è veramente un altro campionato. Gabriele, in bocca al lupo per domani sera. Viva il lupo e grazie e viva l'Eurovision Song Contest. Grazie. Grazie a te. Grazie. 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 Grazie.